Il governo, di questo devono avere paura, e per questo siamo ancora qui. E rispondiamo al ministro Castroni che l'unica provocazione per tante settimane Se ci bloccano il futuro, noi blocchiamo la città. Il governo, di questo, a costo! I soldi per la scuola si devono rovare! Tantellando la spesa militare!